Musica Amici sportivi della visione ben ritrovati immagini che vi giungono dallo stadio posto di Piatola Serra quindicesima giornata del campionato nazionale Under 15 Girone C prima partita di ritorno si affrontano le campane Avellino e Benevento passiamo subito alla lettura delle distinte partiamo dall'Avellino padrona di casa che schiera Gammone tra i pali numero 1, numero 2 Daniele, 3 Luminoso 4 Visconti, 5 Giordano, 6 Parisi 7 Capas, 8 Rossi, 9 Rinaldi 10 D'Angelo, 11 Esposito a disposizione Genovese, Giampietro, Palladino, Capuozzo, Monaco Ruotolo, Pescicolo, Festa e Buonagura allenatore signor Giuseppe Bevilacqua il Benevento risponde con Dio tra i pali numero 1, numero 2 Gentile 3 Torisco, 4 Albano, 5 Barilotti, 6 Seminara 7 Giampaolo, 8 Cargiulo, 9 Battisti 10 Angelo, 11 Olimpio in panchina Pellecchia, Moccia, Sena, Taria, Bracale, Strazzullo, Boccia, Sorrettone e D'Agosto allenatore Fusaro dirige il match il signor Russo assistito dai signori Festa e Caputo tutto pronto per l'inizio di questo derby attesissimo derby d'alta classifica Lavellino, secondo all'inseguimento del Napoli primo in classifica, un'altra squadra campana del raggruppamento C affronta dunque in casa il Benevento quarto in classifica Benevento che ha avuto il merito di pareggiare prima della sosta natalizia in casa del Napoli per 0-0 consentendo all'Avellino in seguitore di accorciare le distanze proprio dai partiti europei capolisti ma il Benevento vuole fermare anche l'Avellino vuole consolidare la sua posizione in classifica attendiamoci 70 minuti di vera battaglia sportiva Avellino e Benevento che avrebbero potuto anche incrociarsi qualche giorno fa nel torneo amichevole Tegra di Irpinia che si è tenuto allo stadio partenio Lombardi di Avellino e che ha visto la partecipazione di sei società tra cui anche la Lazio vincitrice in finale contro l'Avellino solo una serie di combinazioni hanno evitato che appunto Irpini e Sanniti si sfidassero sul sintetico del partenio Lombardi seppur in una sfida amichevole ma oggi si fa sul serio ci sono in palio tre punti importantissimi il calcio d'inizio sarà abbattuto dai giornalossi del Benevento L'Avellino nel corso di questi primi 35 minuti attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschemi partiti dunque si riparte con il calcio giovanile dopo la lunga pausa natalizia L'Avellino prima della sosta aveva abbattuto Ascoli in casa per 4-0 e poi come vi abbiamo narrato all'alba della telecronica il Benevento ha pareggiato in casa del Napoli per 0-0 L'Avellino dunque che manovra la palla con il numero 8 Rossi che viene fermato si gioca in un fazzoletto di campo Battisti per il Benevento palla all'indietro per Diglio respinge luminoso in maniera piuttosto superficiale Giampaolo per il Benevento sul versante di destra tiene palla Giampaolo per far servire il compagno che sarà sovrapposto l'ultimo tocco di un calciatore beneventano per un attimo ripartito L'Avellino perché il Benevento si è reimpossessato della sfera ancora Benevento con Albano appoggio per Olimpio tiene palla Olimpia l'indietro per Albano palla sulla sinistra irraggiungibile per il numero 3 Torisco colto in un controtempo il classe 2003 di Fusaro rimessa laterale per l'Avellino intanto è stata commessa un'irregolarità da parte dei Beneventani calcio di punizione per gli Irpini padroni di casa si gioca praticamente a metà strada Prato Lasera appunto è distante più o meno in misura uguale da Avellino e da Benevento è l'Avellino che ospita la sfida di quest'oggi che segna anche l'inizio del girone di ritorno ancora la formazione bianco verde perde palla l'Avellino errato il controllo del polone da pasta di Ciro Capasso premiato come miglior giocatore del torneo Terre d'Irpinia dal presidente Walter Taccone presidente dell'Avellino Calcio torneo a livello giovanile riservato dalle categorie Under 15 che si è svolto allo stadio partenio Lombardi tra il 3 ed il 5 gennaio del 2018 l'Avellino è giunto secondo il Benevento terzo la formazione sannita abbattuto nella finale per il terzo e quarto posto i co-regionali della Juve Stabia detentrici del trofeo in finale poi la Lazio nel primo tempo supplementare grazie ad una rete di Chime ha avuto la meglio sull'Avellino i capitolini si sono aggiudicati la Coppa vincendo per una rete a zero dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0 ma torniamo al presente torniamo a questa partita che vede il Benevento in movimento con Albano intercetta però Rossi Visconti Esposito pallari cacciati in avanti ma la sfera termine in faro laterale rimessa con le mani in favore del Benevento Benevento Gentile pallone allungato il controllo di luminoso collaborazione con un compagno intercetta il Beneventano Albano una serie di impali una serie di corte respinte viene messo in moto Giampaolo il cross ci sarà semplice rimessa dal fondo la battuta di Gammone il capitano Giordano palla l'indietro ancora per Gammone luminoso Visconti Giordano Daniele la palla termina sul fondo troppo lento Daniele nella circostanza non è riuscito il numero due dell'Avellino a superare l'avversario Daniele che è stato a sua volta superato dal pallone la serie è terminata in faro laterale poi nulla di fatto su questa sortita giallorossa Gammone c'è una buona cornice di pubblico sui gradoni dell'impianto sportivo posto intanto ancora una disattenzione da parte di Simone Daniele messa la trale regalata al Benevento una serie di contrasti palla fuori dall'area di Rigorierpina Visconti prova ad allungarla per un compagno D'Angelo viene anticipato è in posizione regolare anzi no fuori gioco di Battisti fuori gioco di dentro è scattata alla perfezione la trappola dell'offside Ciro Capasso lo scatto di Capasso il tocco di Torisco giudicato regolare rimessa con le mani in favore dei di Rigorierpini Daniele lotta Rossi viene fermato in maniera irregolare dato Disco che prova a spiegare le sue ragioni al direttore di gara che però non ritorna sulla sua decisione e concede dunque il calcio di punizione alla squadra bianco-verde che al quinto minuto di gioco può provare a rendersi pericolosa sistema il pallone sul punto di battuta Capasso occhio a Rossi occhio a Giordano la battuta di Capasso pala sul versante più lontano il colpo di testa di Francesco Rossi impreciso se ma coordinato il numero 8 ha puntato con il capo lo specchio della porta avrebbe potuto giocare di sponda ora Capasso prova il dribbling Capasso mantiene il possesso del pallone salcentra alza la testa Capasso cambia il gioco sulla sinistra beneficio di Luminoso lo scambio ravvicinato con Esposito pala di ritorno per Luminoso buona trama dell'Avellino ma il Benevento fa buona guardia e a sua volta prova la ripartenza c'è Parisi a vigilare parla l'indietro per Gammone Luminoso evita la rimessa laterale poi la guadagna con le mani Luminoso D'Angelo corre l'indietro a recuperare la palla Giordano Daniele stavolta la giocata gli riesce Daniele Capasso ancora Capasso braccato da Olimpio Capasso circunnaviga Toglisco ruba palla a Rossi ora il Benevento lo scatto di Olimpio inseguito da Daniele di Tacco Olimpio a servire il numero 10 Angelo quasi omonimi due numeri 10 d'Angelo per Lavellino e Angelo perché il Benevento intanto c'è una scorrettezza commessa da Giordano che protesta vivacemente non è d'accordo il capitano dell'Avellino con la decisione dell'arbitro di accordare un calcio di punizione al Benevento ottavo del primo tempo sempre 0 a 0 un capitano da Serra tra Lavellino e Benevento match valido per la quindicesima giornata del campionato nazionale Under 15 Gironi la prima di ritorno Lavellino secondo in classifica affronta in casa il Benevento quarto e dunque una stra regionale d'alta classifica ora punizione per il team giallorosso quattro uomini in barriera sistemati da Gammone è pronto a mirare Albano sarà il numero quattro a calciare presumibilmente con il destro verso la porta è così tra vettoria bassa non è un granché il calcio piazzato di Albano la sfera che aggiunge nell'area piccola l'uscita di Gammone spericolata la sortita del portiere Biancoverde spericolata ma efficace rilancio di Luminoso rimessa laterale per Lavellino D'Angelo ancora Luminoso prova il palleggio Giampaolo a mettere ordine Gentile la sua posizione di Gentile il cross del numero due palla in aglia la respinta di Giordano l'allungo di Rinaldi ora Lavellino con D'Angelo avanza D'Angelo sulla tre quarti palla in profondità per Esposito il sinistro di Esposito devia in corner D'Io calcio d'angolo per Lavellino il primo di questa partita Fulminia ripartenza Biancoverde sull'asse D'Angelo Esposito ha calciato una volta entrato in aria Esposito attento D'Io sul primo palo a deviare in corner calcio d'angolo per Lavellino prima occasione da rete del match targata Simone Esposito la risposta di D'Io a deviare in corner la risposta del Benevento intanto con Olimpio Olimpio la respinta da parte di Rinaldi capovolgimenti di fronte nel giovane lo spettacolo nel giovane il gradimento del pubblico applausi per i 22 in campo ritmi discreti in questi primi 10 minuti di partita dovrebbe esserci calcio di punizione per Lavellino ha terrato Visconti proprio all'altezza della riga laterale si rialza il numero 4 nativo di Castellammare di Stabbia calcio di punizione per Lavellino si attende che la sfera pervenga a Capasso che batterà un altro calcio di punizione stavolta sul versante di sinistra la rincorsa di Capasso le istruzioni di Bevilacqua che è lì nelle vicinanze Fischia Russo parte Capasso palla in pienaria Barilotti viene fuori con Autoguità la trama Beneventana cerchiato e fermato Olimpio Seminara Gentile improvvido dribbling sull'avversario perde palla esposito anzi D'Angelo chiedo scusa i dribbling di D'Angelo crea che scompiglio tra le maglie Beneventane ora Daniele il cross basso palla respinta da Bagilotti se non andiamo in rati viene fermato regolarmente Angelo ci sarà Giallo per il numero 6 Andrea Parisi prima monito del match il provvedimento disciplinare del signor Russo cade al dodicesimo del primo tempo provvedimento che ci sta tutto il numero 6 dell'Avelino si è praticamente aggrappato al numero 10 del Benevento è giusta la sanzione combinata dal signor Rossi esposito lotta con l'avversario e subisce fallo in ripiegamento difensivo calcio di punizione per gli Irpini batterà luminoso un po' indeciso sul da farsi il numero 3 di Bevilacqua alla fine indirizza palla verso Rossi ancora Avellino D'Angelo lo scambio con Rossi ancora D'Angelo fermato fallosamente però calcio di punizione per la vice capolista del Girone C Rinaldi Rinaldi batterà lui deve rispettare la distanza Angelo e lo ha detto chiaramente il direttore di gara Rinaldi luminoso palla palla respinta ancora Benevento Olimpio non riesce a domesticare la sfera ma c'è Angelo per i gelorossi ancora Angelo palla per Olimpio quasi quasi pensava alla conclusione Ancora Olimpio ci prova conclusione murata luminoso si distende l'Avelino con Esposito fermato irregolarmente anche qui potrebbe scapparci il giallo punizione per la scuola di casa si è rialzato Simone Esposito qualche minuto fa la sua conclusione di sinistro ha impegnato Diglio nella deviazione in corner Gargiulo palla allontanata dalla metà campo Beneventana Todisco sbaglia favorendo Capasso Rinaldi sbaglia pure lui Battisti il gioco viene fermato per l'offside segnalato ai danni dei calciatori del Benevento Parisi luminoso palla raccolta da Albano Angelo ancora Angelo rincorre la sfera Giampaolo è in posizione irregolare numero 7 punizione per Lavellino è apparsa netta la posizione di fuorigioco dell'esterno destro allenato da Fusaro Rinaldi luminoso palla di cacciati in avanti il colpo di testa di Gentile una serie di impalli c'è fallo commesso ai danni del numero 8 Gargiulo tutti gli uomini indistinta sono nati nell'anno 2003 batterà lo stesso Gargiulo un'occhiata all'area di rigore siamo al quindicesimo 20 minuti più eventuale recupero all'intervallo ecco la battuta di Gargiulo palla in aria sbuca dalle retrovie il numero 3 torisco ma c'è fuorigioco anzi no trattavasi di Battisti c'è fuorigioco gol annullato al Benevento al sedicesimo minuto di questa prima frazione sarà sganciato Battisti è sbucato dalle retrovie ma quando l'ha fatto quando ha impattato la sfera si è ritrovato al di là di tutti è giunta immediata repentina la segnalazione del guardaline a decretare la posizione di fuorigioco dunque rete annullata al Benevento per fuorigioco di Battisti punizione ora in favore dei calciatori dell'Avellino intanto c'è un altro giallo ha morito un altro calciatore un calciatore del Benevento la seconda ammunizione in assoluto un giallo per parte quindi c'è anche parità nel conto delle ammunizioni Giampaolo Gargiulo Battisti duello spalla a spalla con Parisi che ne esce vincitore Rinaldi D'Angelo ancora D'Angelo Semina Albano D'Angelo ancora quasi in cespica serve sulla destra Capasso che accelera prova a crossare intervento in Tickel di Todisco e calcio d'angolo protesta plateale di Todisco all'indirizzo dell'arbitro rischia l'ammunizione Todisco corner per Lavellino con la battuta del calcio d'angolo l'uscita vuoto di Diglio e poi Rossi a porta vuota sparacchia alto si è coordinato il numero 8 ha calciato forte alto sfruttando l'uscita a farfalle di Diglio Avellino pericoloso al diciottesimo con Rossi stavolta rischiato il Benevento ha sparacchiato alto il numero 8 dell'Avellino tradito anche forse dalla frenesia Seminara Ancina avanti Parisi all'indietro per Gammone il rilancio del portiere dell'Avellino palla nella zona di Gentile che lascia scorrere accontentandosi della rimessa laterale con le mani pronto Gentile rimette subito in avanti il copo di testa di Parisi palla in faro laterale diciannovesimo il tempo scorre ci avviciniamo al ventesimo minuto di gioco sempre 0-0 a Prato la sera tra Avellino e Benevento Albano il controllo di Albano il sinistro del numero 4 conclusione abbondantemente a lato ha fatto tutto bene Albano meno che la conclusione buon per Lavellino Gammone palla per Giordano Daniele Capasso Daniele l'alcio in avanti di Daniele allontana Gentile duelli in velocità tra Luminoso e Giampaolo alla fine l'ultimo tocco è del calciatore bianco-verde rimessa giallorossa Gentile prova a sveltire i tempi ma sono bien piazzati gli avversari Albano palla irraggiungibile per Gentile che pur che in scivolata aveva tentato di evitare che il pallone fuoriuscisse non ci è riuscito che è messa a attacare stavolta in favore dei lupi di Irpinia Benevento preferisce ripartire da Diglio un suo errore in uscita stava per costare caro alla formazione ospite Rossi a porta vuota spagacchiando alto ha graziato i beneventani troppo di tacco di esposito per nessuno la palla termina in favolaterale dalle parti di Bevilacqua che si arrabbia con i suoi rimessa laterale in favore dei giallorossi di Mr. Fusaro deve indietreggiare gentile aveva guadagnato indebitamente metri il classe 2003 palla ancora fuori col corpo gentile che è sicuramente più grosso di esposito ancora benevento nella metà campo avversaria gentile la battuta della rimessa con le mani Avellino che nel prossimo turno di campionato farà visita alla Ternà nel benevento riceverà il Foggia la presa di Gammone che però non ha evitato il corner calcio d'angolo per i beneventani ventiduesimo nel corso di questo primo tempo sempre 0-0 seguiamo gli sviluppi di questa azione l'Avellino riparte le occasioni più nitide sono di marca vellinese con Esposito e Rossi al benevento è stata annullata una rete per posizione di fuorigioco di Battisti di testa colpisce Daniele pala raccolta però dagli avversari Todisco però in profondità per Olimpio che pasticcia col pallone Capasso colpo di tacco a disorientare Albano che commette falo d'ostruzione calcio di punizione per l'Avellino Daniele Giordano da Parisi a Luminoso la sfera non filtra per l'ostruzione di Giampaolo c'è comunque rimessa laterale in favore dei lupacchiotti di Bevilacqua due minuti al venticinquesimo Avellino 0 Benevento 0 Luminoso si avvicina ad Angelo ignorato palla verso Esposio colpo di testa di Gentile pallone che salza a campanile è stato commesso fallo riparte anzi no gioco interrotto aveva provato a sorprendere gli avversari Lavellino con la subitanea abbattuta nel calcio di punizione il direttore di gara però ha fatto interrompere facendo ripetere il tutto messa con le mani in favore dei padroni di casa che provano a riaffacciarsi dalle parti del portiere Beneventano Diglio scorrettezza di Giampaolo su Luminoso riparte Lavellino Rinaldi palla per Luminoso calcio Luminoso ma la palla è intercettata da Albano Parisi tradito dall'impeto travolge l'avversario calcio di punizione per il Benevento ultimo tocco di un calciatore gelorusso rimessa laterale ad appannaggio dei padroni di casa Luminoso con le mani Esposito scavalcato allontana Parisi spedendo il pallone ancora in out gioco spezzettato gentile con le mani c'è poco movimento da parte dei compagni agittata di gentile la sfera che si spegne tra i guantoni di Gammone Giordano Rossi Gammone Luminoso rischia nel contrasto con Battisti stava per commettere una leggerezza Luminoso è andata bene Albano ancora Battisti lancia sulla destra Gianpaolo che stavolta è in posizione regolare Gianpaolo entra in aria va giù calcio di rigore per il Benevento Luminoso ha atterrato Gianpaolo anche di rigore e calcio di rigore per il Benevento dunque al 26esimo minuto del primo tempo intervento falloso di Emanuele Luminoso su Gianpaolo ha indotto il direttore di gara ad assegnare il tiro dagli 11 metri Angelo ha l'opportunità di sbloccare il risultato ha l'opportunità di portare il Benevento in vantaggio l'incoraggiamento portato dal numero 11 Olimpio ad Angelo 26esimo calcio di rigore per il Benevento parte il numero 10 Beneventano ed è il gol la sfiorata Gammone il portiere Biancoverde aveva dato l'illusione di respingere la sfera Benevento in vantaggio al 27esimo con Angelo che ha trasformato il calcio di rigore concesso per atterramento in area di Giampaolo commesso da da Luminoso e dunque Benevento avanti a Prato-Laserra 1-0 per la formazione Sannita sbloccato Angelo dal dischetto ora il signor Rossi si reca dalle parti dell'altro assistente a Monendo Angelo che ha portato avanti la formazione Sannita evidentemente qualcosa non è piaciuto nell'esultanza del numero 10 del Benevento e giallo per lui che ha appena sbloccato il risultato trasformando il calcio di rigore concesso dall'arbitro al 26esimo di questo primo tempo per atterramento in area di Giampaolo fallo commesso da Luminoso che da Tergo ha colpito l'avversario l'arbitro non ha avuto nessuna esitazione nell'indicare il dischetto Benevento è in vantaggio Ravellino è sotto nel punteggio messa laterale battuta da Tudisco calcio di punizione per il Benevento batte Gargiulo dove la formazione di Fusaro sogna il colpaccio in Irpinia la battuta di Gargiulo tra i togli arcuata sulla parte opposta interviene Baghilotti di testa che non trova lo specchio della porta Baghilotti indisturbato nell'impatto con il pallone dunque Benevento che sta vincendo in casa dell'Avellino la formazione di Fusaro vuole continuare sulla scia dell'ottimo pareggio conseguito in casa della capolista Napoli prima di Natale gesto di stizza ecco Capasso gesto di stizza di Giampaolo non proprio d'accordo con il direttore di gara nell'assegnare la rimessa laterale agli avversari intanto c'è calcio di punizione per il Benevento i gelorossi non hanno alcun interesse ad accelerare le operazioni anche se c'è ancora una piccola fetta di primo tempo da disputare più tutta la ripresa ci sono margini ampissimi per l'Avellino di rimediare allo 0-1 con cui il Benevento sta espugnando il sintetico di Prato la Serra copo di testa di Rossi ecco Esposito che agisce sul versante di destra parla indietro per Daniele sbaglia Daniele si allunga il pallone Gargiulo ha rimessa Ebeneventana ecco turisco di testa colpisce Daniele non c'è fallo Visconti per l'Avellino Capasso sbaglia il tentativo di servire d'Angelo occhio a Angelo l'uscita di Gammone che salva l'Avellino dal 2-0 allontana Luminoso opportunità per il Benevento Angelo avrebbe potuto siglare la personale doppietta Gammone in uscita ha respinto il pallone salvando l'Avellino dallo 0-2 Benevento ancora pericoloso Todisco Olimpio è fortunato nel rimpallo con Daniele ancora Olimpio vince il duello con Rossi viene ammonito Rossi secondo giallo all'indirizzo di Avellinesi Rossi va ad aggiungersi a Parisi punizione per il Benevento 32esimo è pronto Gargiulo il destro del numero 8 il colpo di testa di Giordano Albano raccoglie si allunga il pallone favorendo Rinaldi che mette in moto l'Avellino non riesce nella ripartenza ci pare D'Angelo si non è riuscito a portare con sé il pallone nella sua corsa favorendo il recupero degli avversari che ora beneficiano di un'altra rimessa laterale sempre gentile la lunga rincorsa nel difensore Sannita di testa Battisti ancora Battisti lo scambio con Gargiulo adesso Angelo che ha avuto l'opportunità di raddoppiare si è fatto respingere il pallone da Gammone proteso nell'uscita adesso Olimpio prova la conclusione di destro palla respinta ci riprova Ravellino che vuole la parità prima che si toni negli spogliatori la conclusione di sinistro di Capasso e palla alta ha calciato di prima intenzione Capasso non ha trovato lo specchio della porta al numero 7 al 33esimo minuto del primo tempo si è liberato al tiro Ciro Capasso e palla lato non di molto occasione per Ravellino in chiusura di frazione seguiamo il Benevento Gentile ancora Gentile prova a crossare Gargiulo svirgola la presa di Gammone che va subito al rinvio Albano l'intervento di punta di Giordano cioè fuori gioco di rientro calcio di punizione per Ravellino che ha rischiato il gol dello 0-2 con Albano ma che avrebbe potuto trovare l'1-1 con Capasso l'uscita l'ennesima di Gabbone sempre su Albano il colpo di testa di Esposito fa la spedita in faro laterale sempre Benevento ancora il numero 9 Battista apre benissimo sulla sinistra per il numero 7 Giampaolo che calcia di sinistro conclusione debole vita facile per Gammone che va subito a rilancio Olimpio la sovrapposizione di Todisco ancora Olimpio palla per Todisco entra in area traiettoria basta ma c'è fuori gioco offside di gioco interrotto e calcio di punizione per l'Avellino adesso Esposito Capasso scambio con Esposito intervento intervento in chiusura di Barilotti a spedire il pallone in tribuna sinistro senza fronzoli di Barilotti è scaduto il tempo regolamentare siamo già nella fase di recupero duplice fischio dell'arbitro dunque si rientra negli spogliatori Avellino 0 Benevento 1 al 27esimo Angelo sul calcio di rigore ha portato in vantaggio i Sanniti si va a riposo dunque con il Benevento avanti di una rete a 0 a risentirci per il commento del secondo tempo Amici sportivi della visione ancora immagini che vi giungono dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Patola Sera sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio che vede di fronte Avellino Benevento Under 15 match valido per il campionato nazionale di categoria Girone C il primo tempo vede il Benevento in vantaggio per una rete a 0 dunque l'Avellino chiamato a rimontare nel punteggio l'Avellino secondo in classifica che sta appunto soccombendo in casa con il Benevento per una rete a 0 il gol è stato messo a segno da Angelo Casacca giallorossa numero 10 su calcio di rigore al minuto numero 27 passiamo subito alla lettura delle distinte l'Avellino che schiera tra i pali Gamone numero 1 numero 2 Daniele 3 Luminoso 4 Visconti 5 Giordano 6 Parisi 7 Capasso 8 Rossino Verinaldi 10 D'Angelo 11 Esposito in panchina genovese Gianpietro Palladino Capuzzo Monaco Ruotolo Pescicolo Festa e Buonagura allenatore signor Bevilacqua non dovrebbero esserci stati i cambi sia da una parte che dall'altra anzi no perché il Benevento è dentro per l'Avellino chiedo scusa è dentro il numero 14 Palladino leggiamo la distinta del Benevento senza tener conto di eventuali sostituzioni seguiamo però l'abbatura di questo calcio di punizione Benevento dunque ha chiuso il primo tempo in vantaggio per una rete a zero grazie al gol di Angelo sul calcio di rigore Angelo che ha avuto un'altra opportunità a tu per tu con Gammone proteso nell'uscita si è lasciato respingere il pallone in due otre circostanze L'Avellino avrebbe meritato miglior sorte ancora Benevento ancora Angelo intervento in scivolata sul numero 10 Beneventano che viene anticipato rimesso in attacca in zona d'attacco per i giallorossi L'Avellino che ha avuto dalla sua due o tre buone opportunità per trovare la via del gol la formazione di Bevilacqua non è stata assistita dalla buona sorte l'occasione per Esposito che si è lasciato respingere in corner la conclusione da Dio la palla goal è capitata a Rossi occhio all'inserimento di Capasso e da una gran rete quella di Capasso un sinistro che incenerisce Dio conclusione bellissima L'Avellino pareggia dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo Capasso palla indirizzata nel set che sinistro quello del numero 7 dell'Avellino e dunque la formazione di Bevilacqua trova la parità Capasso che lo abbiamo già ricordato nel corso il primo tempo nel torneo amichevole Tegra di Irpinia era stato premiato come miglior calciatore del torneo e sulla falsariga sull'entusiasmo di quella premiazione da un saggio delle sue potenzialità anche a Preto la Serra che goal quello del numero 7 parla imprendibile per Diglio siamo sull'1-1 ora stiamo manencando le due o tre occasioni le due o tre chance capitate da L'Avellino nel corso dalla prima frazione di gioco Capasso ha trovato la via della rete regalando l'immediato 1-1 al Benevento la ripresa era iniziata da 120 secondi L'Avellino dunque che raggiunge la parità con Ciro Capasso un sinistro in corsa che non ha lasciato scampo a Diglio palla imprendibile indirizzata nel set nell'angolino alto destro della porta difesa da Diglio intanto qualche scaramuccia tra numero 14 Palladino e Gargiulo di raccomandazione dell'arbitro all'indirizzo del numero 14 Biancoverde ora cercheremo a conoscere il calciatore che è stato sostituito nel corso che è l'intervallo da Bevilacqua numero 14 Palladino chiedo scusa Palladino numero 14 Esposito sullo 0 a 0 ha avuto l'opportunità di sbloccare il risultato intanto il cross di Rossi ancora Capasso ed è una rete bellissima quella di D'Angelo Lavellino da spettacolo quarto minuto della ripresa la formazione bianco-verde capovolge le sorti del match si porta avanti nel punteggio che combinazione tra Capasso e D'Angelo che al volo in spaccata è riuscito a superare Diglio proteso in tuffo l'esultanza dell'Avellino 2 a 1 ora per la formazione irpina tremendo 1-2 assestato dai ragazzi di Bevilacqua Benevento tramortito è cambiato il punteggio a Prato la Serra Lavellino ora conduce per 2 reti a 1 inizio di secondo tempo da incubo per i calciatori giallorossi al secondo minuto Capasso ha pareggiato le sorti del match al minuto numero 5 D'Angelo ha ribaltato le sorti di questa partita portando avanti l'Avellino la squadra bianco verde in questo momento è in classifica raggiunge quota 30 il Benevento invece rimane fermo al momento a 22 Albano Todisco è entrato anche per Scicolo per Lavellino rimessa laterale giallorossa è pronto Torisco a battere con le mani intanto Bevi l'acqua raccomanda i suoi maggior calma possiamo leggere la distinta del Benevento intanto Visconti non abbiamo avuto il tempo grazie soprattutto a questa concitata emozionante fase di partita che ora vede Lavellino in vantaggio per due reti a uno due golle giro di tre minuti dal secondo al quinto hanno cambiato per il momento il volto di questa partita Benevento che si era portato negli sfogliatori in vantaggio per una reti a zero in un amen ha visto svanire il vantaggio concretizzatosi con il calcio di rigore trasformato da Angelo al ventisettesimo della prima frazione di gioco rimessa dal fondo Gammone stavolta è Lavellino a non avere interesse ad accelerare le operazioni ora però c'è un richiamo verbale da parte dell'arbitro russo all'indirizzo di Gammone il quale deve stare attento rischia il giallo l'arbitro di fatto lo ha messo sotto torchio si lotta fermato esposito ancora Benevento ma la palla è uscita allora il Benevento che ci pare non abbia effettuato cambi schiera Diglio tra i pali numero uno numero due Gentile tre Torisco quattro Albano cinque Barilotti sei Seminara sette Giampaolo otto Gargiulo nove Battisti dieci Angelo undici Olimpio in panchina Pellecchia Moccia Sena Talia Bracale Strazzullo Boggia Sorrettone e D'Agosto Alena Fusaro arbitra il signor russo coadiuato da Festa e Caputo nel corso del primo tempo è stata annullata per fuorigioco una rete al numero nove del Benevento Battisti Avellino prima che Capasso e D'Angelo centrasse con il bersaglio era andato vicino al gol con Esposito con Rossi e con lo stesso Capasso Capasso già nel corso del primo tempo si era inserito benissimo tra le maglie giallorosse si era ritrovato a tu per tu con Dio da buona posizione aveva fallito il bersaglio invece è stato letale al minuto numero due della ripresa il mancino del numero sette Avelinese ha fulminato Dio palla imprendibile nel sette poi lo stesso Capasso in combinazione con D'Angelo ha regalato a Lavellino il gol del 2 a 1 una combinazione fantastica spettacolare 3-2 l'intervento acrobatico in spaccata di D'Angelo un pallonetto che si è insaccato per il vantaggio per il ribaltone e dunque Lavellino avanti nel punteggio sul Benevento un inizio di ripresa pirotecnico a Prato la Serra tutto sommato le formazioni non si sono risparmiate hanno dato vita sinora ad una piacevolissima partita un match sostanzialmente corretto che mi sarà trale in favore degli uomini di Bevilacqua è pronto Rossi gioco interrotto deve reagire il Benevento Battisti Angelo la formazione giro rossa appare frastornata appare un pugile suonato dopo il doppio gancio avanza D'Angelo ora D'Angelo ancora serve Capasso gran sinistro conclusione che sfiora il palo altra bella azione dei Biancoverdi Benevento ancora frastornato Avelino ancora pericoloso sull'asse D'Angelo Capasso D'Angelo ha ricambiato il favore servendo il compagno gran sinistro l'ennesimo di questa partita e palla di un soffio a lato Benevento che ha rischiato la terza rete Battisti parla per D'Angelo è in posizione regolare numero 7 Gianpaolo la respinta di Gammone attenzione all'uscita di Gammone deve stare attento a non commettere fallo su Gianpaolo va giù il numero 7 Beneventano Stavolta stavolta lascia correre il direttore di Cagano c'è calcio di rigore Gammone gran protagonista ha respinto dapprima su Gianpaolo che ha sfragato il gol del 2 a 2 poi in uscita è stato bravo a non commettere fallo sullo stesso numero 7 Giallo Rosso il cui atterramento attenzione seguiamo Esposito si invola Esposito in area non riesce a calciare perché viene contenuto efficacemente da Seminara altra occasione per Lavellino Esposito non è riuscito a trovare il tempo per calciare a rete sembrava il netto vantaggio sull'avversario il quale con esperienza è riuscito a rimediare i danni Lavellino rimane ancora in avanti con Capasso che va a battere il calcio d'angolo al tredicesimo minuto della ripresa la battuta di Capasso palla in aria sfiora D'Angelo nell'elevazione la sfera termina in fallo laterale no sul fondo evidentemente sulla traiettoria arcuata la palla aveva già avvarcato la linea avesse impattato con il pallone d'Angelo spedendoli in rete la marcatura sarebbe stata annullata Seminara potrebbe essere uscito Simone Daniele nel corso dell'intervallo con intravediamo la maglia numero due quindi uno dei calciatori sostituiti potrebbe essere Daniele al suo posto numero 14 palladino è entrato anche Alessio Pescicolo per l'avellino vedremo chi è l'altro calciatore che è stato sostituito il benevento sinora non ha operato cambi viene fermato fallosamente palladino da Giampaolo punizione per i biancoverdi Capasso autore del gol dell'1-1 Gammone ancora Gammone anche egli protagonista con un paio di uscite con un paio di respinte provvidenziali soprattutto quella sullo 0-1 su Angelo il portiere biancoverde nell'uscita ha evitato il raddoppio Beneventano nel secondo tempo la squadra biancoverde è riuscita a ribaltare il punteggio e sul 2-1 ancora Gammone è stato provvidenziale sul numero 7 Giampaolo a difesa del vantaggio che sta maturando sul sintetico del comune metastrada tra Avellino e Benevento quando siamo giunti al quarto d'ora esatto della ripresa intanto è stato atterrato il capitano biancoverde Giordano punizione per la formazione di casa rimessa rimessa laterale che sarà battuta da Rossi e farlo laterale non è calcio di punizione Pescicolo fermato ecco D'Angelo scambio con Battisti che prova allargare sulla destra per il numero 7 Giampaolo palla in aria capitano Giordano anticipa anche il suo portiere il gioco era fermo calcio calcio di punizione per Lavellino dovrebbe essere uscito anche il luminoso l'acqua ha cambiato gli esterni bassi D'Angelo palla per Esposito il destro di Esposito che stavolta fa centro trist dell'Avellino 3 a 1 ennesima combinazione efficace da parte dei calciatori biancoverdi stavolta Esposito particolare sultanza del numero 11 dell'Avellino 3 a 1 al 17esimo della ripresa conclusione angolata palla migata appunto nell'angolo più lontano vanno il tuffo di Diglio l'Avellino fa 3 ed ora 3 cambi per il Benevento Avellino scatenato in questo inizio di ripresa 3 reti nel giro di 17 minuti fuori Gentile Gargiulo e Battisti per il Benevento e allora Simone Esposito porta a 3 le marcature biancoverdi equilibrio spezzato di netto a Prato la Serra Avellino Maramaldeggia qua sono 3 le reti della squadra di Bevilacqua che nel corso di questa ripresa ha preso nettamente il sopravvento e con 3 reti nel giro di pochi minuti ha annullato il vantaggio conseguito dal Benevento al termine dei primi 25 minuti Bracale maia numero 16 parla l'indirizzo dell'altro nel entrato d'agosto la presa basta di Gammone Avellino dunque che resta nella scia del Napoli che sta battendo in casa nettamente la Ternana Ternana che sarà il prossimo avversario dei lupacchiotti di Bevilacqua dunque si recheranno in Umbria gli Avellinesi nel prossimo fine settimana il Benevento tra le Muramiche riceverà il Foggia per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale ante 17 Gironi ancora D'Angelo viene fermato stavolta il trequartista biancoverde Visconti non concede nulla Lavellino ora Capasso ancora Capasso dalla sinistra cross basso di Capasso Baggilotti si immola col corpo e devia in corner Benevento in grave difficoltà la formazione giallorossa non riesce a tenere il campo a tenere il campo Lavellino quando riparte è sempre pericoloso battuto il corner quarta rete siglata da D'Angelo ventesimo 4-1 per Lavellino D'Angelo che nel risultare si sfila pure nella maglia sarà ammonito Lavellino porta a 4 le sue reti davvero impensabile alla fine del primo tempo l'esploit dei biancoverdi nel corso della seconda frazione Lavellino 4 Benevento 1 anche nella gara interna contro l'Ascoli Lavellino aveva dato il meglio di sé nel corso della ripresa ma lì sulla carta è un impegno molto molto più agevole Benevento è sicuramente superiore all'Ascoli ma anche il Benevento quarto in classifica ricordiamolo sta soccombendo in maniera netta in casa dell'Avellino che nei secondi tempi si scatena ancora Capasso scatenato Capasso deve rifugiarsi in faro laterale Bracale entusiasta in tribuna il pubblico di fede biancoverde amareggiati i Beneventani giunti nella vicina Prato la Serra per sostenere i propri beniamini rimessa laterale e biancoverde non pare non pare esserci più partita il Benevento dà l'impressione di aver tirato che mi imbarca certo quell'1-2 è stato davvero tremendo per la formazione giallorossa intanto viene ammonito palladino messa laterale che è dell'Avellino fosse a perso tempo il numero 14 la squadra di casa combinazione errata tra i lupacchiotti di messa laterale in favore della squadra giallorossa nettamente sotto per 4-1 crollo verticale dei sanniti nel corso dei primi 20 minuti della ripresa altro cambio per il team di Fusaro fuori Giampaolo e Olimpio rivoluziona il suo scacchiere mister Fusaro anche se la situazione appare molto molto complicata 23esimo poco più 10 minuti al termine di questo derby che vede l'Avellino nettamente avanti per 4-1 sul Benevento la formazione di Bevilacqua mantiene il secondo posto in classifica e coltiva col trascorrere delle giornate il sogno di partecipare ai pre-off pre-off nazionali poi vi spiegheremo anche il regolamento degli spadeggi per laurearsi i campioni d'Italia di categoria fallo commesso dagli avanti bianco-verdi di parte del Benevento certo conseguire il raggiungimento dei play-off costituirebbe un ottimo risultato un'ottima vetrina per i ragazzi di Bevilacqua testimonianza dell'ottimo lavoro che il team bianco-verde sta ponendo in essere anche il Benevento in fondo in corsa aveva un piazzamento play-off essendo quarto ricordiamo che gli spareggi accedono le prime quattro dei tre gironi più le due migliori quinte Capasso sbaglia nella ripartenza il controllo di Seminara c'è Italia per lo scatto di Angelo l'uscita di Gammone ma su tutti Giordano che anticipa avversario e compagno rifugiandosi in corner Benevento prova ad accorciare le distanze prova a darsi più di una speranza in vista del finale di partita ha respinto in aria Palladino smessa laterale per gli Irpini e Ponto Rossi dieci minuti alla fine della partita più eventuale recupero Avellino quattro Benevento uno ancora Angelo che aveva illuso la sua squadra trasformando il calcio di rigore dell'uno a zero nel secondo tempo si è scatenata la truppa di Bevilacqua e in venti minuti ha stanato gli avversari con quattro reti tutte di pregevole fattura il chiamo verbale per Bevilacqua che rischia no è stato allontanato allontanato mister Bevilacqua dalla panchina anche sul 4-1 il mister Biancoverde non riesce ad avere sufficiente self-control pretende sempre la massima attenzione dei suoi ragazzi a volte in maniera eccessiva intollerabile come in questa occasione il delettore di Gagalo allontanato esposito il dribbling ancora esposito dribbling sull'avversario Benevento non riesce a scuotersi Avellino padrone del match intanto rimane contuso Visconti che necessita dell'intervento del massaggiatore gioco interrotto potrebbe aver ricevuto un colpo alla nuca il numero 4 dell'Avellino si tocca il capo potrebbe essere sostituito Visconti vediamo se sarà in grado lo Stabiese di proseguire la partita cambia anche il Benevento fuori l'autore dell'unico gol Sannita Angelo dentro l'unico 17 Strazzullo è entrato anche il suo rettone per il Benevento Visconti intanto si disseta vedremo se sarà in grado di guadagnare nuovamente la posizione in campo oppure se si renderà necessario l'avvicendamento punizione punizione anzi fanno laterale per l'Avellino D'Angelo è rientrato Visconti dunque nessuna sostituzione per lui rimane in campo il mediano originario di Castellammare di Stabbia calcio di punizione per il Benevento un minuto alla mezz'ora della ripresa Avellino 4 Benevento 1 D'Agosto Dibling su Rossi ancora D'Agosto il cross del numero 20 scavalcato Albano ma c'è Italia Ancora Bracale per i Sanniti Davalino si difende Benevento a testa bassa sinistro errato da parte di Boggia palla abbondantemente a lato Benevento prova a riaprire il match la conclusione di di Boggia di sinistro tiro svirgolato il lancio di Gammone ha intercettato per un attimo Boggia fermato da Visconti Capasso lotta lotta Visconti con messo fallo su Bracale si è appoggiato sull'avversario Visconti riparte Benevento da Baghilotti a Seminara Sorrettone fermato il lancio di Ginaldi per Pescicolo vediamo se Pescicolo partecipa al Festival del Gol no il Sorra Sotera viene bloccato da Liglio altro talento Pescicolo soprattutto al derby vinto in trasferta contro la Sanitana è legato il suo nome Pescicolo con una sua tripletta annullò il 2 a 0 della Sanitana siglando tre reti che hanno consentito agli Irpini di sbancare Salerno no non è stato allontanato bevi l'acqua è rimasto in panchina il tecnico dell'Avellino siamo stati ingannati dalla prospettiva aveva dato le spalle all'arbitro del tecnico Biancoverde sembrava che si stesse allontanando dal rettangolo di gioco invece è rimasto in panchina rimessa dal fondo si cambia ancora tra le file a Biancoverdi ha smesso la casacca anche Gian Pietro allora fuori fuori d'Angelo tra l'altro ammonito a suo posto il numero 16 Monaco fuori anche Simone Esposito due dei marcatori delle quattro reti dell'Avellino trentaduesimo tre minuti più eventuale recupero alla fine del derby Avellino Benevento Avellino che conduce per quattro reti ad uno Benevento si era portato in vantaggio nel secondo tempo si è scatenato l'Avellino quattro reti in venti minuti e derby che sta prendendo la direzione di Avellino Capasso Pescicolo al volo di destro palla alta sfortunato Pescicolo che trova anche il tempo di litigare con l'avversario Bracale avanza Bracale affrontato da Capasso intervento di Capasso palla in faro laterale osservate il pubblico appoggiato alla balaustra della tribuna del Modestino De Cicco di Pratola Serra Italia teatro quest'oggi di questo derby under 15 tra Avellino e Benevento Avellino che ha fatto sua l'astra regionale anche all'andata vincendo nel Sagno per tre reti a uno Todisco viene circondato Todisco prova a venire via il Capitano Giordano che commette fallo calcio di punizione per le streghe continua a protestare Giordano urla tutta la sua innocenza all'arbitro che non vuol sentire ragioni calcio di punizione per il Benevento che vuole rendere il passivo meno amaro meno pesante ormai manca un minuto al trentacinquesimo materialmente solo un miracolo potrebbe rimettere in partita la formazione la formazione giro russa già guarda il cronometro il direttore di gara nulla di fatto su questo calcio di punizione fa la sparacchiata alta Avelino Avelino dunque che si appresta a festeggiare la sua nonna vittoria in campionato il Benevento di partita ne ha vinte 6 premissa laterale in favore dei giallorossi siamo agli sgoccioli del derby Avelino è saldamente in vantaggio per 4 reti a 1 grande secondo tempo della formazione di Bevilacqua molto molto più equilibrio nel corso della prima frazione di gioco il leziosismo di Capasso Bevilacqua gliela perdona siamo mai nella fase di recupero sul 4 a 1 Bracale prova a sfondare Bracale la presa di Gammone determinante sullo 0 a 1 nel neutralizzare il possibile 2 a 0 di Angelo fosse entrato quel pallone molto probabilmente avremo assistito ad una partita di uno scenario diverso ecco Giordano fermato Rinaldi ancora Benevento calcio di punizione atterrato il numero 4 Albano è sempre Giordano a protestare vis-à-vis con l'arbitro avrebbe anche potuto essere ammonito punizione per il Benevento la formazione di Fusaro vuole il gol del 4 a 2 per rendere meno a mano il punteggio è pronto il numero 19 Sorrettone ricordiamo che ai fini del piazzamento playoff si è in conto anche della differenza reti è pronto Sorrettone le raccomandazioni e spiegazione dell'arbitro agli uomini sistemati in barriera la soluzione di Sorrettone la presa di Gammone che deve in corner c'è tempo per battere dalla bandierina Strazzullo palla per il compagno il cross al centro l'uscita di Gammone che non riesce a tenere il pallone in una situazione complicata rincorre la sfera il numero 16 Monaco ma non c'è più tempo esulta l'Avellino grande secondo tempo della squadra irpina una grande prestazione nei secondi 35 minuti che regala il derby 4 a 1 dell'Avellino sul Benevento e la formazione di Pevilacqua aggiunge quota 30 in classifica sempre seconda alle spalle del Napoli vittorioso in casa contro la Ternana avremo dunque che sale a quota 30 in classifica che consegue la nona vittoria in questo campionato che la vede grande protagonista il sogno playoff continua e come dall'impianto sportivo Modestino del 5 è tutto mi moscolese al commento Alfonso Iannone alla telecamera a risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV di Avellino